Amici sportivi di MySoccerPlayer, buongiorno, buona domenica da Giancarlo Guadagnini, siete collegati in diretta con il campo della Borghessiana. Parte un cross, parte un tiro, traversa! La traversa colpita dalla Lodigiani. I giocatori, pulsione battuta, tagliata, palo! Il palo colpito strettamente su posizione, un palo ancora in mezzo, vediamo che è preso il palo, un lancio lunghissimo, colpo di tacco molto bello da parte di Dominicis e poi parte il cross di Virdis e tocco di incoronato il gol! Il gol incoronato ha portato in vantaggio la Lodigiani sul cross dalla sinistra da parte di Virdis. Diciottesimo minuto, Lodigiani 1, 6-0, incoronato! quindi Gallo, il tocco da quest'altra parte, parte un cross di Gesia, la conclusione murata sul tiro da parte della Volpe. Palone in mezzo, attenzione c'è il tiro ribattuto, Selvini manda fuori. Bello questo lancio con l'esterno, Picci, 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 Picci! Il tiro è deviato! La conclusione è il 2-0! Ed è lui, è lui, è Picci che raddoppia e forse chiude la partita al trentaseiesimo minuto! Il gol di Picci, 2-0! Picci, il tiro deviato e la bella parata qui del portiere! tiro potente, palo! E finisce qui! Lodigiani ha battuto la listezza per 2-0, terza vittoria consecutiva firmata in coronato Picci.